Questa sera è eccezionale, la atmosfera è bellissima, ci siete in tanti. Chi ha vissuto quegli anni li ricorderà, chi non li ha vissuti cerchiamo di ricordarli. Questa è eccezionale, la atmosfera è bellissima, chi non li ha vissuti cerchiamo di ricordarli. Questa è eccezionale, la atmosfera è bellissima, chi non li ha vissuti cerchiamo di ricordarli. Perchè? 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 Perchè?